e niente amore un bacino buon natale anche a te buon natale Alina buon natale ciao tesoro ciao ciao ma chi te l'ha regalato? me l'ha regalato Marco stamattina e io stamattina che sto con sto cerchietto in testa pure al lavoro? certo tutti i clienti che quando entravo ridevano quando entravano al negozio ridevano io sta ridendo per quello che c'è in testa? e sono divertita da morire è grella